Potrebbero passare ancora diversi giorni prima che entri in azione un robot sottomarino per le ricerche. Ultima speranza di individuare le scatole nere del volo MH370 a un mese dalla scomparsa del Boeing che trasportava 239 persone. Domenica l'ultima ricezione di un segnale che potrebbe corrispondere a quello delle scatole nere dell'aereo decollato da Kuala Lumpur ma è arrivato a Pechino. È un compito titanico, una ricerca su un'area immensa e in acque molto profonda, ha detto il ministro della difesa australiano. È il trentaduesimo giorno di ricerca ma possiamo assicurare che non lasciamo nulla di intentato negli ultimi giorni di questo difficile compito. Ultimi giorni, ancora per poco infatti sarà possibile trovare traccia dell'aereo inabissatosi nel sud dell'oceano indiano prima che le scatole nere smettano di inviare il loro segnale. E soltanto la registrazione di quanto accaduto a bordo lo scorso 8 marzo potrebbe spiegare come l'aereo sia finito in mare a migliaia di chilometri dalla sua rotta originaria e dare un vano solivo alle famiglie delle vittime.